Benvenuti a Biennale Tecnologie, sono Emiliano Audizio, lavoro per una magazine che si occupa di innovazione e tecnologia che si chiama Wired, nello specifico mi occupo di curatela e di eventi di questo tipo. Ringrazio Biennale per avermi invitato a introdurre questo incontro e io lascerò tra poco la parola alla nostra relatrice, sappiamo di cosa parleremo oggi, di come il nostro cervello da un lato recepisce, interpreta ed elabora una serie molto ampia e diversa di informazioni e grazie a questi processi di elaborazione riesce ad agire nel mondo e anche a comprendere la realtà. Ovviamente, come ben sappiamo, l'integrazione tra analogico e digitale ha raggiunto un livello di pervasività e di sofisticatezza così profonda che questo ha degli impatti non soltanto sulle possibilità che possiamo avere, pensiamo alla realtà aumentata, la virtual reality e tutte le forme di interazioni mediate da strumenti digitali e dalla tecnologia. nello stesso tempo c'è un processo che va nella direzione opposta e contraria che è la modifica dei nostri modelli percettivi. Ne parleremo oggi con Martina Ardizzi che è ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma, insegna psicologia generale e neuroscienze. Benvenuta Martina, non è il primo... Anche un applauso così ci svegliamo, facciamo un po' di rumore. Io lascio tra 30 secondi il palco a te, ci sarà un punto, avrà una presentazione di una durata di 30-40 minuti, vedremo un po'. Mi chiedo se apriamo subito la discussione, insomma, se avete delle domande per favore segnate, prendete appunti e Martina sarà ben felice di rispondervi. Giusto per fare due esempi raccolti nella storia per introdurre questo rapporto che vedremo adesso tra realtà, percezione e rappresentazione, due esempi, due brevissimi aneddoti che possono magari aiutarci a entrare in questa discussione. Il primo è del 1928-29, era totalmente analogica, René Magritte, pittore, espone un quadro dove si vede una pipa e la scritta, la didascalia che l'accompagna e questa non è una pipa. Grande scandalo ed è uno magari dei quadri che avete visto. Anche qui si inizia a parlare già nel 1928, ma si è sempre parlato di discrepanza, differenza tra realtà e rappresentazione. Ma per essere un po' più vicini, cito un aneddoto di Alfred Korzybski, perdonate la mia pronuncia, ma il polacco non è proprio la mia comfort zone. Lui è un filosofo, un matematico che ha dato vita, elaborato la teoria della semiologia generale, quella scienza che per semplificare studia i segni. Durante una lezione con i suoi studenti a un certo punto dice scusate ragazzi ho un attimo fame, devo mangiare qualcosa, se non lo svengo e tira fuori dalla sua borsa un pacchetto di biscotti, che però sono chiusi in un pezzo di carta. Mangia uno, poi va dagli studenti in prima fila e diceva ne volete o qualche ragazzo accetta o qualcuno no, e iniziano a mangiare. A un certo punto, mentre mangiano, prima di riprendere la lezione, toglie il foglio di carta e c'è una bella faccia di un cane con scritto biscotti per cani. A quel punto gli studenti iniziano un po' a reagire stupefatti, qualcuno sputa il pezzo di biscotto e lui dice vedete ragazzi vi ho appena dimostrato come noi non mangiamo soltanto il cibo ma mangiamo anche le parole. Questo è un bel aneddoto per raccontare come il rapporto tra percezione, rappresentazione e realtà, insomma è qualcosa che è molto interessante indagare. Non mi dilungo, lascio la parola a Martina. Grazie Emiliano, grazie. Ed è proprio di questo sostanzialmente che proviamo ad occuparci oggi insieme in questa mezz'ora, 40 minuti, con una prospettiva che ovviamente è la mia, è sempre meglio parlare di ciò che si sa, quindi vi porto la prospettiva neuroscientifica e l'idea è quella di ragionare insieme su quelli che sono appunto i rapporti complicati tra la realtà esterna, oggettiva, qualsiasi essa sia, il nostro cervello che di fatto è un simulatore della realtà. Questo è un po' il modello di mente che possediamo oggi. Il nostro cervello assimila, elabora determinate informazioni provenienti dall'esterno ma anche dall'interno del corpo per fornirci che cosa? Una rappresentazione, una rielaborazione di quello che è l'esterno. E in particolare, visto che siamo alla Biennale della Tecnologia non a caso, la domanda cruciale alla quale arriveremo sarà, ma quindi il fatto di essere immersi all'interno di un mondo che non è più soltanto analogico, come poteva essere per Magritte, ma è anche digitale, virtuale, financo meta, meta verso o quello che potrebbe voler dire, ancora non abbiamo in realtà molto capito, questo ha un impatto nel nostro modo di rappresentare la realtà. Il nostro cervello come maneggia questi oggetti? La relazione tra uomo, tecnologia e ambiente è una relazione che di fatto parte, adesso inizio il balletto delle slide, parte da molto lontano. Noi come specie abbiamo sempre sviluppato tecnologia, adesso a conti fatti possiamo dirlo senza timore di smentita, siamo un mammifero di media taglia, nel mio caso piccola taglia, non siamo particolarmente veloci, particolarmente forti, non siamo velenosi, non sappiamo neanche granchemimetizzarci, no? Nell'arco della nostra evoluzione quello su cui abbiamo scommesso è più che altro lo sviluppo cognitivo, il nostro sviluppo cognitivo e le nostre funzioni cognitive. E abbiamo sempre utilizzato questa nostra capacità per produrre degli artefatti tecnologici, pensiamo dalla ruota sostanzialmente fino appunto al metaverso di oggi, per colmare quel gap tra le nostre necessità biologiche e le richieste ambientali. Abbiamo sempre anteposto appunto il nostro sviluppo, le nostre potenzialità cognitive, la nostra capacità di creare tecnologia rispetto a una specie di fitness biologica, no? Cioè abbiamo sostanzialmente prima domandati, tra virgolette, se potevamo fare qualcosa di culturale, di tecnologico, di artefatto, piuttosto che modificare immediatamente il nostro assetto biologico. Ora, il punto qual è? Che questo è molto vero e conseguentemente abbiamo creato numerosissime nicchie culturali. Ogni volta che emerge una nuova tecnologia si intrude nell'ecosistema presente e di fatto crea una nuova nicchia culturale. Vi faccio l'esempio dell'allevamento. A un certo bel punto nella nostra evoluzione siamo stati sufficientemente capaci, in grado, di pensare e produrre allevamento, che vuol dire dal punto di vista cognitivo delle funzioni molto sofisticate. Vuol dire saper procrastinare la ricompensa, vuol dire avere un certo numero di persone dedite alla cura del bestiame. Vuol dire avere anche delle risorse alimentari per poter alimentare il bestiame. Vuol dire pensare a contenerlo e tutta una serie di cose. Non è così scontato. Di fatto non ci sono altre specie che allevano di fatto per produrre cibo. Ora però, da che abbiamo prodotto questa sorta di artefatto culturale, l'agricoltura in questo caso o l'allevamento, abbiamo modificato la nicchia culturale. Abbiamo modificato la nicchia ecologica nella quale viviamo e dalle quale emergono delle tensioni di selezione naturale. Quindi l'ambiente, così da noi modificato, continua a mantenere le sue pressioni di selezione naturale. Tanto che, e questo è un esempio tra i molti, molti di noi possono comodamente alimentarsi a latte e digerire il latte anche dopo lo svezzamento. No, moltissimi. Io sono una di quelle, per fortuna, perché adoro i latticini e adoro i formaggi, quindi mi merrebbe mancare qualcosa di fondamentale nella mia dieta, ma ci sono anche moltissime persone, immagino, tra noi, invece, intolleranti al lattosio. Ce ne sarà qualcuna qui. Non cerchiamo dati sensibili, non fuori le mani, però sicuramente se non siete voi qualcuno di vicino a voi, magari intolleranti al lattosio. E questo perché, di fatto, in quanto mammiferi non siamo tenuti biologicamente ad alimentarci a latte dopo lo svezzamento. Nessuna vacca beve latte, no? Bevono acqua dopo lo svezzamento. È solo il vitello che si alimenta a latte. Ma col fatto che, durante la nostra evoluzione, a un certo punto è emersa la possibilità di allevare, ecco, questa nuova nicchia culturale ha selezionato quegli individui che da questo nuovo contesto traevano al massimo beneficio, e cioè coloro che, per mutazioni casuali, stocastiche generalmente, erano in grado di produrre determinati enzimi e di digerire ancora il latte, nonostante fosse già terminato il periodo dello svezzamento. Capite che, in questo caso, loro traevano il massimo beneficio da questa nuova nicchia culturale. Però non è il nostro modo biologico con cui siamo stati, di fatto, tra virgolette, programmati. Questa è una parola che non dovremmo usare. Vabbè, passatemela perché sono ancora le 10. Dopo iniziamo a fare un po' di finezza in più. Ok, quindi che cosa succede, sostanzialmente? Che noi, grazie alle nostre potenze e competenze cognitive, creiamo nuovi contesti e questi contesti iniziano a selezionare gli individui che meglio ad essi si adattano. Questa è, detta molto semplicemente, la Gene Culture Co-Evolution Theory, che di fatto riadatta quello che tutti noi abbiamo imparato e sappiamo della selezione naturale, del darwinismo più classico, concependo anche l'impronta tecnologica, culturale, che l'uomo, in quanto specie particolarmente dedita allo sviluppo delle sue finezze cognitive, ha imposto sull'ambiente. E questa nostra tendenza è, di fatto, particolarmente evidente. Adesso io mi sono poi appassionata di un filone di ricerca, per cui ve lo porto, perché vado in brodo di giugiole quando leggo questi lavori così interessanti, però con queste ricerche si è dimostrato, una cosa che più o meno sapevamo già da tempo, è che, per esempio, noi prima ci siamo vestiti e poi dopo abbiamo iniziato a schiarire il pigmento della nostra pelle, quando abbiamo iniziato la migrazione dall'attuale continente africano all'attuale continente europeo. Ma più recentemente, negli ultimi dieci anni, questo lavoro di un gruppo belga ha di fatto indagato i pidocchi, cioè pensate voi da dove arriviamo a conoscere meglio la nostra specie, perché sapete che noi abbiamo perso praticamente tutti i peli, tranne i capelli, 1,2 milioni di anni fa circa, quindi i pidocchi si sono andati tutti a collocare all'interno praticamente del nostro cuoio capelluto. A un certo punto la specie di pidocchi da cuoio capelluto, da capello, si è differenziata da quelli invece dei tessuti. Ecco, andando a mappare indietro nel tempo, quando nell'evoluzione questa diversione delle due specie è emersa, si è scoperto che probabilmente abbiamo iniziato a vestirci 170 mila anni fa, molto prima di quello che si immaginava. E voi direte, vabbè, chi se ne frega? No, non chi se ne frega, perché in realtà questo dimostra che abbiamo intruso un artefatto culturale molto precocemente e le ricerche poi, che si sono arricchite in questa linea, hanno dimostrato come probabilmente per l'uomo moderno, cioè la nostra specie sostanzialmente, l'essersi vestito gli ha garantito di salvarsi le penne nella prima era glaciale. Quindi capite che per noi creare tecnologia, come può essere ovviamente l'abbigliamento. Oggi abbiamo addirittura la moda, quindi pensate quanto riusciamo a sviluppare un artefatto che potrebbe essere minimale fino a creare qualcosa di culturale, qualcosa di sociale, qualcosa di politico anche. Quindi abbiamo uno sviluppo e un panorama estremamente ampio. Però non è una questione, diciamo, neutra, ok? Non è una questione di secondaria importanza. Nella grandissima e maggiorissima parte della nostra evoluzione, questa nostra capacità di creare artefatti tecnologici, culturali, di creare qualcosa di nuovo che va a modificare il mondo esterno, ci ha garantito la sopravvivenza. E questo lo possiamo dire, insomma, con un generale accordo. Sapete che nelle comunità scientifiche, classicamente, si lanciano moccassini sui minimi dettagli. Ecco, questo è uno di quei contenuti su cui più o meno siamo tutti grossolanamente d'accordo. Ora, seguendo il mio ragionamento, una delle domande che emergeva sempre più anche in altri contesti dove ho relazionato rispetto a questi dati era, vabbè, ma ormai quindi è fatta. Cioè, se siamo così potenti, no? Che possiamo avere dalla sanità pubblica all'abbigliamento, al metaverso, abbiamo, ormai l'abbiamo ingannata la selezione, no? Ormai siamo oltre il processo selettivo. Di fatto, uno potrebbe ingenuamente immaginare che tutto sommato ce la stiamo cavicchiando abbastanza bene e che quasi tutti noi saremo, come dire, avvantaggiati da questo nuovo contesto altamente culturale e tecnologico nel quale sicuramente la pressione della selezione naturale viene meno perché abbiamo così tanti cuscinetti tecnologici tra noi, capite, tra le nostre mancanze biologiche e anche le richieste ambientali per cui tutto sommato siamo in una posizione privilegiata. Questo è certamente vero rispetto ad altri animali, abbiamo una posizione privilegiata, ma non è vero che la selezione naturale o comunque le pressioni appunto dall'ambiente verso la selezione biologica della nostra specie si sono completamente quietate. E questo è dimostrato da diversi lavori. Oggi abbiamo una condizione inedita, ci sono questi che vi mostro qui, sono soltanto i più grossi, i più corposi, ma abbiamo tantissime banche date genetici, di dati genetici, di genomi della nostra specie ed è francamente credo la primissima volta che possiamo in un qualche modo vederci evolvere online. Cioè riusciamo a mostrare, a vedere quelle che sono le mutazioni genetiche che vengono selezionate, per esempio, che vengono mantenute nell'arco di pochissimi centinaia di anni o al massimo un pugno di secoli. E questa è una condizione assolutamente inedita per la nostra ricerca scientifica che ci sta fornendo una marea di informazioni senza pari. E grazie a queste banche date, a queste ricerche, riusciamo a sapere che non è vero che la pressione ambientale di fatto sia esaurita, cioè che la selezione naturale o sessuale non avviene più perché noi abbiamo questo strumento tecnologico a nostro favore che è la nostra mente, sostanzialmente il nostro cervello e che ci fa essere fittanti la qualsiasi, in un qualche modo, pronti, si dice ready to, qualsiasi stravolgimento ambientale. E su questo abbiamo diversi esempi, poi se volete ci andiamo più dentro perché sono veramente molto interessanti. Ora, questo preambolo, un po', sembra che l'ho presa un po' da lontano dai piedocchi al metaverso, adesso effettivamente il salto può essere quantico, un po' cospicuo ma ci arrivo, l'ho presa così lontano per darvi un attimo il quadro in cui si devono inserire tutte queste ricerche per dimostrare appunto che cosa? Che la domanda che ci stiamo facendo oggi, non solo noi, se la stanno ponendo in tanti, e cioè se questo nuovo mondo digitale, virtuale, meta o quello che sarà, ha o meno un impatto sul nostro modo di funzionare, non solo è una domanda legittima, ma è una domanda alla quale probabilmente c'è una risposta affermativa. Dobbiamo capire in che cosa questa risposta affermativa eventualmente consiste. Quello che sappiamo è che certamente il bersaglio più probabile di questi adattamenti e di queste modifiche date da questa nuova nicchia culturale che stiamo vivendo è probabilmente il nostro cervello. E questo per un motivo forse non immediatamente palese, ma che riguarda proprio l'inedita versione di queste nuove tecnologie. Finché parlavamo di ruota, aereo, stampa, scrittura, worldwide web, eccetera, avevamo delle tecnologie che, come dire, ci fornivano dei bracci bionici, dei surrogati di quello che noi non potevamo essere, ci permettevano di memorizzare informazioni che noi non avremmo mai potuto memorizzare, di volare, di trasportarci, eccetera, eccetera. Oggi, per la prima volta, con le tecnologie dal digitale in avanti, ovviamente, in realtà quello che si offre a noi è più che altro una ricostruzione del reale. Quello che si offre al nostro cervello e a noi è un mondo che ha dei criteri virtuali, ma che, come dire, ha l'aspirazione di poter essere considerato, quantomeno dal nostro cervello, abbastanza reale. tanto reale da permetterci, in un qualche modo, di agire in esso, no? Di avere delle relazioni con degli avatar esterni, di parlare, di fare dei meeting, di prendere decisioni, di agire, di fare della telemedicina, capite? Tutte questi aspetti in un mondo che non è qui ora, dove c'è il mio corpo, ma è in un ambiente, appunto, altro, virtuale. Quindi, tutta questa nuova tecnologia, che cosa fa? In un qualche modo, mima quello che il nostro cervello ha sempre fatto. Come aprivamo prima con Emiliano, rappresenta quello che sta fuori. La realtà oggettiva, qualsiasi essa sia, nessuno di noi la toccherà mai. È una chimera, nessuno di noi la vedrà mai. Noi vediamo una realtà, potremmo dire, fenomenica, cioè qualcosa che è elaborato, processato dal nostro cervello e che ci è riproposto. E, secondo il modello che abbiamo oggi di mente, il nostro cervello procede proprio con un atteggiamento bayesiano, probabilistico. Si fa delle previsioni e verifica se poi i risultati che osserva nella realtà sono coerenti o meno con le sue previsioni, si corregge e conseguentemente ricrea un nuovo modello. Quindi è un simulatore, esattamente come il mondo digitale è un simulatore della realtà esterna. E allora capite perché le neuroscienze vanno a infilarsi in questo cubicolo ginepraio di domande? Perché la domanda fondamentale è queste tecnologie funzionano solo se la simulazione che propongono è buona abbastanza da, metto tra virgolette, ingannare il nostro cervello. Cioè il mondo virtuale può essere sufficientemente ingaggiante una tecnologia, diciamo, che riesce a coprire questo cuscinetto o che mi dà, come dire, un vantaggio solo e soltanto se il mio cervello, non solo il mio cervello, però diciamo che restringiamo il mio cervello perché se no stiamo qui 12 giorni e vi denunciate per sequestro di persone, non vorrei finire nelle pesche legali. Diciamo però che il mio cervello, tra i vari, deve attribuire a questo mondo virtuale status di realtà, capite? non può concepirlo come qualcosa di completamente avulso e completamente diverso. Quindi, da qui, siamo autorizzati a farci questa domanda? Sì, siamo autorizzati ad andare a vedere probabilmente nel cervello che cosa succede. Nella seconda parte, appunto, ora vi ho fatto, come dire, l'introduzione per darvi un attimino quello che può essere il framework da cui partiamo a tirar giù quello che sappiamo finora lato neuroscienze rispetto a questa complessa relazione tra il mio cervello e la realtà esterna, reale o digitale, quello che dobbiamo, quello che ci possiamo chiedere effettivamente è se i processi che normalmente noi mettiamo in atto nella vita reale, analogica, per costruirci una rappresentazione di noi e del mondo esterno funzionano nello stesso modo o in modo diverso nell'ambiente virtuale. Cioè, se l'ambiente virtuale è sufficientemente in grado di simulare di nuovo quello che normalmente avviene nel mondo esterno. E, visto che, di nuovo, non possiamo stare qui giorni, cerco di farvi il punto, e questo è il passaggio un pochino più complesso, cerco di farvi il punto su uno dei meccanismi centrali del nostro funzionamento neurobiologico, che riguarda i processi di integrazione multisensoriale. Qui siamo un po' nel tecnicismo, però, calmi tutti. Di fatto, la realtà esterna, questa famosa realtà oggettiva che noi non sappiamo bene dove sia o che cosa sia in realtà, è sicuramente multimodale, cioè comprende tutta una serie di stimolazioni che provengono da diverse fonti energetiche, ok? Onde acustiche, fotoni, eccetera. E noi abbiamo a disposizione degli organi recettivi di senso capaci di elaborare i fotoni, le onde acustiche e via andare. Quello che però per noi è la realtà non è una segregazione di esperienze sensoriali come un po' può essere nelle fumer di Picasso, no? Dove abbiamo il vapore del fumo, l'immagine un po' scostante del corpo. Noi abbiamo una percezione unitaria della realtà esterna. Ci è data come un unico oggetto. Nessuno di noi, nella salute, presume che ci siano segregazioni tra le informazioni sensoriali. Se vedo una luce che si illumina e sento contemporaneamente un pling, io percepisco un bip luminoso, giusto? Se prigio il campanello e sento dindlon, immagino che quella sia la mia azione di pressione del campanello e che qualcosa abbia suonato in risposta alla mia azione. Non sono frammentato nella realtà. Non sono, potremmo dire, proprio a segno schizofrenico. Infatti i pazienti che soffrono di schizofrenia hanno proprio un'alterata percezione e capacità di integrazione multisensoriale tra le altre cose. Quindi questo processo di integrazione di fatto ci permette che cosa? Di fare presa sul mondo e quindi di avere questa realtà fenomenica, ma anche di definire me stesso. Un'altra cosa di cui parleremo tra pochissimo, ma che vi anticipo così ad asterisco, è questa. La mia personale esperienza di questo mio, come mio corpo, che chiamiamo body ownership, quindi l'implicito feeling, l'implicita esperienza, che indubbiamente, questo che io sto muovendo è il mio corpo e non il vostro, che il mio corpo è diverso dal vostro, che il mio corpo finisce qui, che questa è la mia azione, eccetera, eccetera, emerge da dei processi di integrazione multisensoriale che utilizzano appunto il mio corpo come punto gravitazionale che mette insieme tutto. Nel momento in cui questo si allenta, ecco che perdo questa convinzione implicita. Ora, noi abbiamo iniziato a studiare i processi di integrazione multisensoriale come tali, quindi come integrazione, di fatto in tempi abbastanza recenti. Inizialmente le neuroscienze studiavano i sensi, lo fanno ancora ovviamente, ed è una ricerca che ha il suo senso, tanto per usare sempre la stessa parola, come unità e singole modalità sensoriali. Eravamo un po' aristotelici, no? Abbiamo ereditato l'idea dei cinque sensi e quindi c'erano i percettologi che studiavano la visione, gli acustici che invece si erano particolarmente intricati all'interno del giro di HASH, del giro temporale, dove ci sono le elaborazioni acustiche, eccetera, eccetera. Studiavamo queste cose come se di fatto fossero analisi che procedevano parallelamente ma separatamente e che poi da qualche parte venissero, come dire, congiunte in una modalità che chiamavamo amodale o transmodale, cioè un livello superiore di astrazione, dove queste informazioni elaborate segregamente venivano poi convogliate. Tutto questo fino verso la fine degli anni 70, quando si iniziò a studiare il collicolo superiore del gatto. Direte voi, bravi, bella lì, interessante, interessantissima struttura. In realtà il collicolo superiore è un piccolissimo nucleo all'interno del cervello, ce l'abbiamo anche noi ovviamente, quello che vedete in immagine è quello del gatto, è stratificato e ha negli strati più profondi dei neuroni che venivano considerati squisitamente motori e negli scuotrati più superiori dei neuroni visivi. Questo perché questa regione quello che fa è controllare i movimenti di inseguimento oculare, quindi i movimenti saccadici del gatto che insegue con gli occhi degli stimoli visivi nell'ambiente. Quindi che cosa doveva fare? Doveva carpire l'informazione visiva e poi, secondo il modello segregato, inviava questa informazione ai nuclei motori che poi facevano muovere coerentemente l'occhio. Ora, non è più così, nel senso che dagli anni, appunto dalla fine degli anni 70 in avanti, si scoprì che negli strati più profondi del collicolo, non c'erano neuroni squisitamente motori che prendevano le informazioni visive e dicevano all'occhio muoviti, ok? Ma c'erano neuroni capaci di integrare già in loro stessi le informazioni visive, sensoriali, anche acustiche, in alcuni casi, con quelle motorie. Cioè, c'era un processo di integrazione multisensoriale. Non c'erano diversi relai di elaborazione, dove l'informazione visiva veniva inviata tipo un messaggio in bottiglia ad un'altra regione che poi faceva una roba tutta motoria, ok? Ma c'era la capacità di questa regione veramente ancestrale, capite che regola i movimenti oculari, una cosa veramente di base, di unire già in se stessa e peraltro nei layer più profondi queste informazioni per dare una risposta che è già integrata a livello multisensoriale. Quello che vedete invece nell'ultima è invece un'immagine a me molto cara perché riguarda la drosofila che è il moscerino della frutta, avete presente? Quei moscerini microscopicissimi che vengono fuori dalle pesche quando sono molto mature, esatto, che è un animale utilizzatissimo all'interno delle neuroscienze. Sapete che le neuroscienze nella loro storia si colorano per particolari modelli animali, una è la drosofila, l'altra è la plisia, questa lumacona americana che ha 20.000 neuroni, Candel ci ha vinto banalmente il Nobel studiando i processi mnestici di questa lumacona, ha 20.000 neuroni e noi li conosciamo tutti per nome, abbiamo mappato l'intero sistema nervoso della plisia, quindi capite che possiamo vedere quando cambia la minima cosa che cosa succede all'interno del sistema nervoso. La drosofila, il gatto ovviamente, poi abbiamo dei pazienti classici che fanno il caso singolo e fanno la storia delle neuroscienze e di altre discipline ad esse affine. Beh insomma, quello che vedete lì è una rappresentazione di quelli che sono i neuroni capaci di questi processi integrativi fin nell'adrosofila. Ora perché ve la sto portando? Perché se ce l'ha anche l'adrosofila che è un moscerino della frutta significa che questa capacità del nostro cervello che abbiamo ovviamente anche noi di mettere insieme informazioni, di integrare informazioni è qualcosa di estremamente ancestrale, qualcosa di molto antico. Noi l'abbiamo conosciuto praticamente dagli anni settanta in avanti ma era in essere all'interno del nostro cervello. Questo poi potrebbe stimolare ma non abbiamo tempo domande su quanto le scienze in generale e la scienza in generale che è un artefatto tecnologico veda le cose solo per come le può vedere. Quindi la domanda rispetto al esiste la possibilità di qualcosa di multisensoriale all'interno del nostro cervello prima degli anni settanta non ce la potevamo neanche porre. Eravamo tutti figli di Aristotele, guardavamo il cervello come fosse un sandwich e stavamo lì dentro e di fatti trovavamo solo conferme a quello che cercavamo. nessuno di noi trova il telefono di qualcun altro se nell'elenco telefonico sta cercando quello di sua suocera cioè stai impuntando a qualcosa e guardi quello che ti viene fuori rispetto ai tuoi prerequisiti alle tue domande che effettivamente hai già in essere ma questo sarebbe un altro un altro paio di maniche. Tutti questi processi di integrazione multisensoriale ci stiamo arrivando di fatto fanno emergere alcune competenze articolatissime nella nostra specie e non solo. Ci permettono di avere una percezione del passaggio del tempo ci permettono di avere una buona coordinazione motoria ci permettono anche alcuni processi mnestici hanno una loro identità di impalcatura cioè è la struttura sulla quale poi tutti i processi cognitivi vengono ad essere vengono ad emergere e la cosa interessante ovviamente io sono di parte però spero di convincervi alla fine di tutto questo lungo percorso la cosa interessante è che con altissima probabilità noi nasciamo già con la capacità di avere questi processi di integrazione multisensoriale c'è uno studio di ronga di due anni fa a questo punto che ha studiato nei neonati pochi minuti dopo la nascita le attività cerebrali di integrazione multisensoriale ha evidenziato che sono presenti stiamo testando adesso se anche a livello prenatale utilizzando la risonanza magnetica fetale se anche a livello prenatale questi sono già in essere probabilmente noi quindi nasciamo già come dire con un bagaglio che ci permette di fare questi processi ma ed è qui la cosa interessante questi processi sono altamente plastici cioè non nascono fissi con delle regole fisse all'interno del quale il nostro cervello si deve scatolare per avere una relazione con la realtà e col corpo sono anzi piuttosto lassi alla nascita e vengono affinati stretti e come dire puntualmente e sartorialmente disegnati in base a quelle che sono le nostre esperienze che facciamo col mondo esterno e questo è assolutamente intelligente perché se questi processi sono la base con cui il nostro cervello rappresenta il mondo esterno e anche il mondo interno intendo il corpo ecco che allora essere fissi e omologati a se stessi non ci permetterebbe di assorbire l'ambiente esterno saremmo come delle macchiette che fanno solo il negativo capite tutto il resto ce lo perderemo per definizione perché non siamo in grado di essere come dire sufficientemente proni ai cambiamenti ambientali e sono assolutamente plastici ora per arrivare al punto quindi l'idea del mondo virtuale e della capacità dell'ambiente virtuale digitale virtuale e meta di simulare adeguatamente questi processi di integrazione multisensoriale per fornirci una realtà che per il nostro cervello potrebbe andare sufficientemente bene ok è il punto di domanda e provo a raccontarvelo con voi qui adesso prendendo in esame due elementi che sono fondamentali all'interno delle nostre esperienze digitali e virtuali e che emergono proprio dalle integrazioni multisensoriali il primo è la rappresentazione del mio corpo la body ownership come vi raccontavo prima quindi quella sensazione implicita che questo è indubbiamente il mio corpo lo so che sembra una banalità però in realtà c'è tutto un processo sottostante nel nostro cervello che mi permette di dire questo è il mio corpo quello non è il mio corpo non ti confondere con le azioni dell'altro anzi coopera con le sue azioni ok agisci in un determinato modo e il secondo aspetto è quello della percezione dello spazio altrettanto importante che emerge proprio da queste competenze la nostra consapevolezza corporea questa nostra capacità di essere nel nostro corpo e di avere la percezione che il nostro corpo è solo il nostro ed è un'esperienza implicita inequivocabile che per noi nell'ambito della salute è molto molto evidente nasce proprio dalla capacità del nostro cervello di mettere insieme informazioni multisensoriali visive tattili viscerali acustiche che arrivano a convergere sul nostro corpo nel momento in cui queste informazioni vengono efficacemente integrate e sono sincrone fanno emergere appunto implicitamente questa mia esperienza di ownership corporea ma vi raccontavo prima che sono plastiche quindi io posso ingannare il mio cervello fornendo adesso delle illusorie parti del corpo e delle illusorie stimolazioni fino al punto da permettere al mio cervello di integrare all'interno della mia esperienza di body ownership parti del corpo che non sono affatto mie o di alterare l'esperienza della mia body ownership vi faccio solo due esempi per renderlo più chiaro se io per esempio vi metto di fronte una mano di gomma quindi una mano posticcia una protesi facciamo finta e nascondo la vostra mano e vi faccio guardare un pennello che tocca la mano di gomma mentre sotto sto toccando la vostra mano in modo sincrono quindi voi sentite il tatto sulla vostra mano vera ovviamente non potreste sentirlo da nessun'altra parte ma lo vedete sulla mano di gomma ok voi inglobate la mano di gomma nella vostra rappresentazione corporea il cervello deve risolverla questa situazione è in una specie di imbarazzo vede una cosa e ne sente un'altra come fa come è possibile quindi integra la mano di gomma nella percezione del corpo e per esempio diversi studi dimostrano che riduce l'afflusso di sangue all'arto lo estromette abbassa la temperatura ha la percezione che la nostra mano reale sia nella posizione della mano di gomma quindi sia leggermente sia sopra il tavolo e non sotto capite deve risolvere questo enigma che noi gli stiamo proponendo questa illusione di fatto proponendoci una simulazione della realtà capite quando dico che è un simulatore la mano di gomma non è indubbiamente la nostra parte del corpo indubbio ma visto che noi lo stiamo ingannando con lo stesso meccanismo che lui usa per formare la sua immagine del corpo lui deve simulare la nostra proprietà corporea e conseguentemente ingloba la mano di gomma oppure questa che viene chiamata Pinocchio Illusion si chiede al partecipante di tenere gli occhi chiusi e tenere un dito sulla punta del suo naso contemporaneamente si stimola con un elettromiografo il bicipite dandogli quindi l'impressione di stare allungando il braccio di stare estendendo il braccio lungo lungo l'asse orizzontale ovviamente però visto che non lo sta facendo perché è un'impressione solo data dalla stimolazione passiva dei muscoli continua a sentire il tatto del naso sotto il suo dito quindi l'illusione che prova è quello che il suo naso si stia allungando mantenendo e arrivando ad estendersi fino a che io non estendo l'intero braccio ok di nuovo il cervello deve aggiustare questa roba come è possibile che io abbia il braccio allungato e che al contempo stia toccando il mio naso è possibile solo se una delle due parti corporee la deformo ok e conseguentemente deformo il naso ora questo è esattamente il meccanismo che noi utilizziamo per far sì che in un ambiente virtuale io possa provare ownership per un avatar qui è una condizione estremamente interessante perché noi quando pensiamo quando indossiamo i visori e incarniamo un avatar ok non è che il mio corpo cessa di esistere il mio corpo è esattamente dove sto col visore ma allo stesso tempo grazie a questi processi di integrazione multisensoriale e quindi grazie al fatto che l'avatar si muove in sincronia come mi muovo io per esempio che ciò che tocca la mano dell'avatar rilascia una sensazione tattile anche sulla mia mano reale ecco che io posso e anzi ecco che inganno a sufficienza il mio cervello per permettermi di immaginarmi dentro l'avatar e di provare sentimenti sensazioni sentimenti no sensazioni di embodiment dell'avatar questo è fondamentale per tutta una serie di processi e la cosa interessante è che nell'ambiente virtuale le ricerche dimostrano che abbiamo anche meno constraint rispetto alla vita reale cioè io posso senza troppi problemi se rispetto determinate regole di integrazione multisensoriale proporre e indurre body ownership su avatar che sono per esempio palesemente non il mio corpo posso incarnare un vichingo no nel che combatte stermina la qualsiasi posso incarnare un uccello posso incarnare un bambino ok riesco cose che nella vita reale non ingannerei non riuscirei a far sì che il mio cervello pensa che la mia mano sia quella di un vichingo nella vita reale capite perché ho dei constraint maggiori quelli che viene chiamata la visual appearance nell'ambito del virtuale il nostro cervello se ne fa abbastanza una ragione e accetta anche di essere molto lontano da quello che è il suo aspetto fisico reale questo purché alcune determinate regole vengano mantenute quelle per esempio appunto della sincronia delle stimolazioni multimodali che permettono i processi di integrazione multisensoriale se l'avatar inizia a muoversi assincronicamente rispetto a me o se qualcosa che proviene dall'ambiente virtuale non giunge anche a livello sensoriale in modo sincrono sulla mia mano io ho perso questa sensazione di ownership ok ora tutto questo discorso scusate tutto questo discorso non è di secondaria importanza perché ci sono ricerche che evidenziano come l'indurre questa sensazione di ownership sull'avatar impatta grandemente su tutta l'attività cognitiva che poi noi facciamo all'interno del mondo virtuale è certo nel senso che se per noi se per il nostro cervello noi non siamo nel mondo virtuale ma il mondo virtuale è solo uno specchio che noi stiamo guardando cosa mi interessa di essere così tanto influenzato da esso capite il nostro cervello è una potente macchina indubbiamente però è dispendiosissima a livello metabolico non può elaborare tutto al 200% non ci stiamo dentro con i costi è una sorta di massaia che cerca di far la conta delle monete che ha e spenderle per le cose più urgenti e rilevanti quindi se l'ambiente virtuale il corpo che io ho nell'ambiente virtuale non è il mio perché dovrei perdere tempo ad elaborare correttamente tutte quelle informazioni là capite non è una cosa che il nostro cervello può fare in modo così libero quindi per esempio per portarvi un esempio concreto i processi mnestici io ricordo molto di più e molto meglio ciò che avviene in un ambito virtuale poniamo una classe virtuale ok oppure io che interagisco con l'ambiente per imparare a fare una neurochirurgia di non so che cosa ok la prendo e la memorizzo molto di più se io ho un processo di embodiment con l'avatar che sto muovendo là rispetto a se la costruzione dell'ambiente non mi fornisce questa esperienza e già solo la presenza di un corpo virtuale nell'ambiente virtuale mi dà un upgrade maggiore capite che se l'ambiente virtuale è completamente strano a me è come quasi fosse un'immagine periferica perché dovrei poi memorizzare tutto quello che lì dentro succede tanto appena lo spengo non c'è più capite se invece io ci ho messo il corpo e ho incarnato quel corpo lì ecco che allora per il cervello quell'ambiente inizia a essere saliente almeno tanto quanto quello reale che in quel momento è più che altro in sordina il secondo aspetto e così ci avviciniamo alla chiusura perché credo che sia più interessante la discussione in realtà su questi temi così mi permettete anche forse di fare degli affondi più precisi riguarda lo spazio ora lo spazio è un oggetto che a noi appare unitario ma che per il nostro cervello invece è segregato in diverse porzioni il qui parliamo di diversi anni fa ma vale il Nobel la scoperta di queste cellule place cell e grid cell nel topo che sono proprio delle cellule GPS ok funzionano esattamente come GPS di Google Chrome di Google Maps che mi ha permesso di arrivare fino qua peraltro da Bologna io peraltro come orientamento spaziale sono pessima quindi se non ci fosse un GPS esterno sarei comunque persa nel vuoto e sostanzialmente questi neuroni che cosa fanno? mappano l'ambiente esterno e nel momento in cui il topo nel caso si colloca in una determinata porzione di spazio scaricano ok costruiscono sostanzialmente una mappa rispetto alla posizione del topo nell'ambiente ripanendo nei modelli animali hanno visto e verificato se queste cellule potessero sparare anche se l'ambiente presentato fosse un ambiente in due dimensioni cioè un ambiente soltanto visivo che il topo in realtà esplorava senza muoversi come immaginate le esplorazioni durante il lockdown che ce n'erano un sacco di video che vi portavano dentro al museo tal dei tali in due dimensioni ecco in questo caso non funzionano non ingannano il cervello del topo e neanche quello dell'uomo a sufficienza per poi permettergli di scaricare come se stesse effettivamente navigando quell'ambiente mentre se ai topi mettiamo il visore di realtà virtuale quindi mettiamo un visore che permette al topo di esplorare l'ambiente in tre dimensioni ecco che le cellule le place cell e le grid cell iniziano a scaricare in modo assolutamente paragonabile a quello che avverrebbe nella realtà quindi se noi facciamo correre un topolino in un labirinto virtuale in tre dimensioni o se lo facciamo correre in un labirinto reale le cellule che ci servono per capire dove siamo in questo maledetto labirinto e che soprattutto i topolini servono a capire dove ho trovato il cibo ponete a ritrovare il punto in cui il cibo c'era piuttosto che dove c'era la minaccia eccetera funzionano ecco che allora in questo caso l'ambiente è un ambiente effettivamente potenzialmente esplorabile sebbene digitale per il mio cervello un altro aspetto ed è l'ultimo con il quale poi dopo chiudiamo riguarda un'altra porzione di spazio che è di un interesse altissimo per diversi contesti e discipline di fatto attorno alle neuroscienze e che riguarda lo spazio peripersonale lo spazio peripersonale è quella porzione di spazio dove io agisco ok? è questo spazio dove io estendendo i miei effettori posso fare cose posso prendere oggetti posso interagire con le persone posso suonare il piano posso cucinare eccetera eccetera ed emerge c'è una porzione nel nostro cervello che elabora proprio questa questa porzione di spazio grazie neanche a dirlo a dei processi di integrazione multisensoriale ora noi sappiamo che in un ambiente 3D virtuale queste cellule rimangono attive io codifico lo spazio peripersonale anche come fosse uno spazio reale anche quando è virtuale questo è fondamentale perché la giusta e la buona elaborazione di questo spazio mi permette movimenti finissimi in esso capite che poniamo un neurochirurgo che deve agire da remoto ok? in un ambiente simulato per agire e creare però in realtà delle azioni reali quindi un ambiente più che altro meta più che virtuale basta se non ha una buona percezione dello spazio peripersonale ha molta più difficoltà nell'agire correttamente in quello spazio ora però come vi dicevo non questi processi sono assolutamente plastici e con essi lo spazio peripersonale questo è il mio spazio peripersonale dove io posso estendere le braccia ed agire ma se io per esempio vestissi un braccio bionico anche solo per 15 minuti e facessi delle azioni con questo braccio molto distanti da me ok? o usassi una racchetta per afferrare degli oggetti lontani ecco che quei neuroni che prima codificavano solo l'estensione del mio arto estendono i campi recettivi fino a includere il tool lo strumento con cui sto facendo questa azione questo è il motivo per cui impariamo a usare gli strumenti e siamo bravi a usare degli strumenti che vanno dalla forchetta per mangiare ok? fino al pennello per dipingere queste volte o qualcosa di ancora di più esterno come può essere appunto il croupier che recupera le fish o noi che impariamo ad andare sugli sci ok? serve che il nostro cervello nel momento in cui abbiamo qualcosa che estende la nostra potenzialità d'azione appunto pennello forchetta lo sci eccetera lo inglobi all'interno di questo spazio in modo da concepirlo come l'estremità ultima della mia azione altrimenti io rimango soltanto il braccio che tiene il pennello ma non la punta del pennello capite cosa intendo? ok in un lavoro che abbiamo fatto proprio quest'anno nel nostro laboratorio abbiamo voluto vedere se questo processo plastico fosse possibile anche nell'ambiente virtuale e la risposta purtroppo è che no al momento per come sono le device che possediamo oggi non è sufficiente non è sufficiente l'interazione diciamo visuomotoria diretta con l'ambiente virtuale è molto probabile che per ingannare il nostro cervello e quindi far sì che il nostro cervello si lasci modificare dall'ambiente virtuale capite qual è l'oggetto dell'indagine l'ambiente reale è sufficientemente saliente per indurre questi processi plastici l'ambiente virtuale al netto delle competenze che abbiamo oggi per renderlo no e questo però cosa comporta che gli apprendimenti motori che abbiamo nell'ambiente virtuale saranno sempre un po' monchi è come se per il nostro cervello sì l'ambiente virtuale ha una sua spazializzazione vedi scarica delle play cell di prima lo capisco lo navigo però non è che gli faccio cose vere ok che gli agisco concretamente tanto da indurre un processo plastico che ha un carico metabolico altissimo nel mio cervello probabilmente quello che dobbiamo fare è approssimarci ancora di più alla simulazione di quella che sarebbe la esperienza reale che mi induce questa plasticità e quindi probabilmente aggiungere informazioni proprio cettive di maggiore senso eccetera eccetera ora il punto quindi in conclusione qual è? che per tutta la nostra evoluzione la nostra specie ha prodotto tecnologia e anzi questa cosa ci ha salvato le penne in diverse circostanze quindi meno male oggi per la prima volta credo forse ne possiamo discutere insieme ragionarci insieme ma per la prima volta possediamo delle tecnologie che di fatto simulano la realtà cioè ci propongono un'altra realtà non soltanto un'estensione delle nostre potenzialità o una estremizzazione delle stesse e però perché queste funzioni devono concepire come noi la realtà fenomenica di cui parlavamo in apertura la costruiamo cioè devono essere informate di quello che è il simulatore per eccellenza della realtà esterna e che è il cervello perché altrimenti stiamo fornendo qualcosa di estetico qualcosa di bello che magari è anche piacevole da fruire ma che non verrà tra virgolette percepito incarnato agito e rappresentato come una versione alternativa del reale capite cosa intendo in quella dinamica che abbiamo visto in apertura dove noi creiamo la tecnologia e poi la tecnologia ci seleziona credo che l'esempio del digitale del virtuale e del meta che ancora non abbiamo ma su cui già stiamo ragionando ci fornisca un'altra condizione inedita e che è inedita o quasi inedita quasi esclusiva e che è di fatto che per la prima volta possediamo credo gli artefatti culturali per farci delle domande andare a vedere cosa succede nel mentre che stiamo sviluppando queste tecnologie cioè attraverso la ricerca scientifica questa che vi ho proposto è un buco di serratura rispetto a tutto quello che si sta ovviamente facendo ma è uno strumento di fatto artefatto tecnologico lo facciamo noi la ricerca scientifica parte da convenzioni e sfrutta la tecnologia e sfrutta un metodo per arrivare come dire a dei dati da cui puoi trarre con processo deduttivo determinate conseguenze e determinate interpretazioni quindi credo che oggi viviamo in un contesto nel quale possiamo utilizzare questo come ulteriore cuscinetto che probabilmente ci avvantaggia nella costruzione di queste nuove rappresentazioni dove quindi il meta non è soltanto il fatto che creo una realtà alternativa ma il fatto che mi stimola una meta rappresentazione di ciò che la realtà è per me di ciò che la realtà è per me come specie uomo ovviamente e in questo dialogo credo che potremo avere effettivamente se non un metaverso che forse non so neanche se ci serva così tanto però delle ottime illuminazioni su come funzioniamo nella realtà e che cosa è per noi la realtà quantomeno sicuramente questo lo potremmo avere da parte delle neuroscienze quindi che cosa è la realtà almeno per il mio cervello e per i nostri processi neurobiologici e con questo ho chiudo e vi ringrazio grazie grazie a Martina Martina Ardizi ci sono apriamo subito insomma il tempo abbiamo ancora moltissimo non abbiamo moltissimo tempo ma sono andata lunga se ci sono delle domande curiosità ecco vengo io prego grazie e complimenti per la prendida relazione sono un collega e mi occupo dei disturbi respiratori del sonno tutto questo con la coscienza nel sonno tutto questo cosa capita? questa è un'ottima domanda forse potrei farla io a lei a questo punto nel senso se avete degli spoiler noi non abbiamo ancora appunto esplorato in questo senso però ci sono alcuni lavori che vanno ad approfondire come lo stato onirico possa in un qualche modo essere integrato all'interno di queste esperienze o come queste esperienze possano o meno simulare uno stato onirico quindi si sta un po' lavorando su queste intersezioni dove appunto abbiamo un allentamento di tutti quei processi di cui in realtà ho parlato fino adesso e che sono veramente meno presenti quello che conosco io sono alcuni tentativi di riprodurre l'induzione di uno stato onirico attraverso uno strumento virtuale digitale che hanno dato dei buoni risultati finora però non so come il virtuale possa essere digerito mi passi il termine in questo contesto esatto più lo arrovescia io avevo un'osservazione e due domande brevemente l'osservazione lei ha detto forse per la prima volta abbiamo a che fare con una realtà alternativa io non credo io credo che da quando l'uomo primitivo per la prima volta dipinse un bisonte o quello che era su un muro creò una realtà alternativa che aveva anche una potenza non era solo un'immagine era un'evocazione animismo eccetera eccetera vanno in questa stessa direzione una rappresentazione certo se si attribuisce un'anima a un oggetto non è solo una follia ci si crede e si vedono cose in questa prospettiva che anche le droghe hanno questo effetto di alterazione biochimica che poi diventa un'alterazione di coscienza quindi quello è un'osservazione le due domande erano un termine filosofico come coscienza lei ha parlato processo di integrazione multisensoriale basta questo per definire che cosa sia la coscienza e l'ultima domanda legata a questa è come lei sa molto bene sicuramente il discorso sull'intelligenza artificiale discute anche spesso di questo su intenzionalità coscienza le macchine non avrebbero intenzionalità coscienza le macchine potrebbero avere meccanismi di integrazione multisensoriale ma questo significherebbe che hanno coscienza oppure intenzionalità e l'ultimissima cosa lei sa bene che c'è un movimento che possiamo definire in larga misura neoprimitivismo noi ospiteremo fra l'altro come dicevo un neoprimitivista un filosofo esponente di questa corrente secondo cui tutto questo è male non bene perché ci stacca dalla realtà vera anzi la distrugge anzi ormai viviamo in un momento catastrofico ripropone un po' la differenza apocalittici integrati di Umberto Eco tutto questo volevo sapere la sua posizione rispetto a questo beh allora rispetto al primo commento speravo che emergesse un commento di questo tipo nel senso che provocatoriamente appunto ha detto quasi la prima volta perché effettivamente se l'uomo ha sempre creato tecnologia l'uomo ha anche sempre rappresentato in un qualche modo dall'arte fino a aspetti alternativi appunto della realtà e sfruttavo questa domanda proprio per andare a dire che molti di questi processi che ora stiamo studiando nell'ambito virtuale li abbiamo studiati in risposta appunto a queste primarie forme di rappresentazione dove però certamente quello che emerge è che la nostra possibilità di interazione con essi fosse limitata da un punto di vista proprio senso rimotorio in alcuni contesti e quindi come l'inedito sia certo una rappresentazione ma una rappresentazione nella quale c'è un'interazione vicendevole tra il piano reale e il piano virtuale poi qui bisognerebbe andarci dentro di più rispetto agli altri elementi no non basta l'integrazione multisensoriale per fare coscienza e io credo che non basti neanche una rete neurale o un codice computazionale per fare coscienza quindi sì noi possiamo programmare e informare determinati processi ma credo che al quid della coscienza siamo ancora è ancora ad avvenire insomma ed è probabilmente un processo molto più complesso che prende dentro diverse traiettorie di cui queste sono indubbiamente una parte ma non il tutto da cui possiamo emergere rispetto al neoprivittimismo mi colloco in una posizione di fatto non così estrema non credo che ci sia l'intenzione di nessuno di estragnarsi da di nessuno proprio in senso individuale credo che appunto per evitare questo lo studio di come noi rappresentiamo la realtà e la fruizione dello stesso in contesti appunto digitali virtuali ci possa permettere di avere un'alternativa piuttosto che un'estraneazione dall'unica soluzione che al momento abbiamo e qui secondo me con un ragionamento giusto che deve essere necessariamente multidisciplinare prendendo dentro appunto anche prospettive più filosofiche e questioni più filosofiche si può avvenire secondo me trovare il bandolo della matassa e provare a percorrerlo lentamente sfruttando appunto quello che la ricerca scientifica ci può poi dire passo dopo passo buongiorno e complimenti grazie mi verrebbero tantissime domande ma che esperienza poi accumulerò di questo mondo virtuale dove dovrei andare a provare a viverci perché il fondo è che cosa voler sostituire una realtà perché non sono soddisfatto di questo là che cosa faccio posso essere un dio un angelo ma quell'esperienza che sa il termine che che è così ma mi dispiace che dobbiamo ingannare il cervello ma io sono sicuro che il cervello non non si farà ingannare non del tutto sicuramente non del tutto perché c'è qualche milione di anni sulle spalle quindi era l'esperienza che farò senza andarla a chiamare mi viene a chiamare adesso i quaglia virtuali cioè mi sta venendo dei termini così che immagazzinerò e saranno incomunicabili mi dà un'idea di un isolamento poi da tutto cioè le relazioni già che sono in crisi io sono analogico al mille per mille faccio parte del cartaceo mi piace scrivere con la penna e la matita poi uso sicuramente il vantaggio ma è l'aspetto emozionale che mi lascia perplesso e mi dà un'idea di una solitudine poi tremenda e nessuna più comunicazione cioè di farmi finta di avere amici come succede l'amicizia non ci sarà mai solo un canale visivo perché qui abbiamo un visore e sfruttiamo tutto ciò questa informazione elaborata da un cervello magnifico e mostruoso e indecifrabile ma nel mondo virtuale io sentirò il profumo dell'avatar che immagino di invitare a cena e che mi darà sì il profumo della sua pelle no andrei avanti per lungo tempo su questo però lo capisco come passa c'è stato anche un tentativo della riabilitazione virtuale però non è che funzioni benissimo ma infatti secondo me qui il punto non è quello di voler secondo me la chiave di lettura sta nell'uso della parola meta e nell'intenderlo come proprio una meta consapevolezza di noi stessi e quindi del fatto che non tutto può essere trasportato in un mondo virtuale non tutto è leggibile non tutto è necessario rispostarlo lì quindi credo che possa avere molto senso per esempio nel favorirci come abbiamo detto all'inizio noi sviluppiamo tecnologie per colmare dei bisogni sostanzialmente tra quello che è la nostra fitness e le richieste ambientali ecco proviamo a domandarci effettivamente qual è il bisogno che chiediamo di cui chiediamo questa tecnologia di rispondere in una versione non lo so utopica forse perché io sono abbastanza d'accordo con lei il punto potrebbe essere non quello di avere relazioni sentimentali nel metaverso le relazioni sentimentali io le voglio qui però nel metaverso posso in realtà non lo so avere dei processi di apprendimento piuttosto che delle cose quindi una una rilettura di devo avere una meta consapevolezza di quello che altrimenti sono conquistato esatto e infatti su questo un po' si appoggiava la mia conclusione nel dire abbiamo uno strumento che è quello della ricerca scientifica che ci può in un qualche modo dare alcuni non tutti sicuramente ma alcuni piedistali su cui appoggiare i piedi con maggiore certezza e provare a dirigere questo sviluppo tecnologico con una meta consapevolezza di quello che stiamo di quello che stiamo facendo per poter agire che non si c'è ancora una domanda anch'io mi complimento con gli altri per l'efficacia la coerenza interna e soprattutto per la bellissima conclusione in termini di riflessione mi occupo di un ambito di studi molto diverso sono un sociologo del territorio però i risultati delle neuroscienze quelli che ha esposto così efficacemente hanno dei riflessi molto importanti anche sull'ambito dei miei studi mi occupo di human agency e quindi vedo che se ho compreso bene il fatto che la body ownership così come lei l'ha definita viene influenzata viene costruita in relazione ad un altro da sé possiamo senz'altro dire che non esista solo una human agency ma una relational agency e anzi di cui human agency e quindi questa body ownership questa coscienza di sé verso un altro da sé è definita dalla relazionalità da questo punto di vista vorrei sapere qual è la sua definizione a questo punto di cervello cioè la mente umana è confinata nel nostro cervello o ha qualche cosa che va oltre e mi riferisco in particolare a un articolo comparso su Nature del 2020 in cui delle gruppi di ricerca di suoi colleghi MIT e Harvard hanno individuato i neuroni predittivi all'interno del nostro cervello per cui anche persone che non conoscono le intenzioni di un altro da sé possono prevederlo possono prevedere il comportamento pur non conoscendo l'altro e quindi mi chiedo qual è la sua definizione di mente ecco questa è la domanda così chiudiamo e poi la domanda enorme sì esatto una domanda ancora poi sì 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 no era per dire che è la domanda delle domande ovviamente non riesco a dare una definizione unitaria o diciamo definitiva perché credo che sia più interessante muoverci nel dibattito quindi come dice lei è concentrato nel cervello c'è qualcos'altro è indubbiamente non concentrato solo ed esclusivamente nel cervello e a parte appunto questi neuroni predittivi del lavoro che citava oggi parliamo ad esempio di dual neuroscience o di social neuroscience siamo in grado di registrare più di un cervello alla volta questo potevamo farlo anche vent'anni fa non era la tecnica che ci mancava ma non sapevamo poi che farcene sostanzialmente della mole di dati e come interpretarli oggi parliamo di hyperscanning e quindi della possibilità di capire come per esempio i cervelli di due persone che sono coinvolti in un'azione cooperativa o competitiva o in un dialogo eccetera eccetera vadano in sincronia cioè si muovono in sincronia e quello che sappiamo al momento è che tanto più questi cervelli vanno in sincronia ovviamente in determinate regioni non in modo generalistico tanto più efficace è la comunicazione l'apprendimento la cooperazione quindi di nuovo non siamo confinati indubbiamente dentro la scatola cranica soprattutto poi se la domanda è appunto che cos'è la mente quindi come diciamo funzione o emergenza di funzioni dal cervello volendo e anche lì non siamo neanche confinati soltanto nel cervello abbiamo un sistema nervoso enterico neuroni che stanno all'interno sostanzialmente del nostro apparato intestinale quindi sostanzialmente rispondono ad altre stimolazioni ma influenzano grandemente il nostro sistema nervoso centrale se adesso potessimo rileggere riformulare anche proprio il lessico chiameremmo le cose indubbiamente con terminologie nuove anche il sistema nervoso autonomo è tutto fuorché autonomo in realtà e non c'è come dire il dittatore del centrale e poi solo queste propaggini ma siamo un sistema cervello corpo il nostro cervello ha questa forma perché emerge da questo corpo abbiamo siamo in interazione con l'ambiente quindi no non la chiuderei lì ma aggiungerei appunto qualcosa da bere attorno a uno spritz per cercare di arrivare da qualche parte perché è indubbiamente una domanda molto molto ampia ma è più interessante il percorso che facciamo che la definizione finale ultima complimenti volevo chiedere se ho capito bene mi pare che abbia detto che il metabolismo cerebrale è dispendioso ecco nella mia formazione io sono un medico pratico ho sempre pensato invece che il cervello fosse una macchina altamente evoluta come diceva il collega presente con milioni di anni di evoluzione ho capito bene oppure è dispendioso ma è super efficiente in questo senso esatto cioè ci sono alcuni processi che ci richiedono un carico metabolico in dubbio però non li facciamo appunto con superficialità adesso stiamo umanizzando il nostro cervello che però per semplicità quindi è dispendioso ma nell'essere dispendioso è estremamente efficiente quindi è estremamente puntuale e abbiamo dei meccanismi di protezione rispetto alla ridondanza piuttosto che all'elaborazione di informazioni non necessarie o il non incedere in processi plastici non necessari appunto legati a questi processi di efficienza che sostengono una macchina che comunque a livello metabolico ha il suo costo sostanziale grazie e per finire lei ha fatto un'esposizione molto equilibrata per cui mi pare che si possa si è colto bene parlare di una interazione di una cooperazione tra realtà virtuale e realtà realtà e a volte però mi pare di cogliere soprattutto nelle persone di età più giovane è quasi un aspetto vicariante come dire la realtà che vivo non mi piace molto nel metaverso magari ho delle sensazioni migliori non posso andare a giocare a tennis gioco col visore questa cosa non mi piace tanto io la vedo più come un'interazione complementare non come una situazione vicariante grazie beh sì non non credo neanche che sia l'intento quello di vicariare l'esperienza forse l'idea è quella di fornire un'esperienza che possa simulare adeguatamente un'esperienza reale ma non con l'intento di sostituirla no con l'intento poi di comprendere che cosa appunto come dicevamo prima col commento precedente che cosa posso poi collocare in questo ambiente a seconda di quelle che sono le esigenze e i bisogni che questo ambiente sarà chiamato a rispondere ed è sempre stato così non abbiamo esiste una tecnologia anacronistica il disco di festo è uno dei primi dischi che è stato di fatto stampato con una stampa a caratteri mobili molto prima di Gutenberg e della stampa ma non ha avuto un suo sviluppo perché nessuno aveva bisogno di stampare a caratteri mobili erano pochissime le persone che erano alfabetizzate avrebbero potuto utilizzarlo ed è andato come dire a morire quindi secondo me per poi ovviamente riproporsi in un'altra veste nell'ambito dell'evoluzione secondo me dobbiamo avere fiducia nella nostra capacità di comprendere effettivamente quelli che sono i bisogni a cui potrebbe rispondere questo ambiente e che non è vicariare l'esperienza però ci dobbiamo arrivare appunto con un processo anche di alfabetizzazione nei nostri confronti agli aspetti tecnologici relazionali sociali politici tutte queste dirammazioni che sono la nostra vita e sono la nostra vita reale c'è poco da fare possono avere una dignità anche nella relazione col virtuale se comprendiamo correttamente se ci mettiamo a riflettere su quelle che sono le propaggini di queste relazioni io ringrazio Martina Ardizzi per essere stata con noi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti